Benvenuti nel mondo degli orologi Louis Moanet. Louis Moanet è un marchio svizzero di orologi di lusso fondato nel 2004, che prende il nome dal celebre orologiaio francese e inventore del primo cronografo, Louis Moanet, considerato uno dei più grandi maestri dell'orologeria e dell'astronomia del XVIII e XIX secolo. Gli orologi Louis Moanet sono sinonimo di qualità, precisione e innovazione, e sono realizzati con materiali di alta gamma come l'oro, il platino, il titanio e i diamanti. La qualità dei materiali e la precisione dei movimenti rendono gli orologi Louis Moanet un investimento duraturo per chiunque apprezzi l'arte dell'orologeria svizzera. I movimenti sono prodotti in Svizzera e sono disponibili in versione meccanica o al quarzo. Tra i modelli più iconici del marchio, troviamo gli orologi Memories, che hanno rivoluzionato l'orologeria di alta gamma. L'orologio Memories ha un movimento cronografico visibile sul quadrante, che consente di visualizzare il movimento del cronografo al centro del quadrante. Il design unico e innovativo di questo orologio ha permesso a Louis Moanet di fondere tradizione e modernità, creando un orologio unico e di alta qualità. Questo orologio è stato prodotto in edizione limitata, rendendolo ancora più esclusivo. Gli orologi Louis Moanet sono disponibili in diverse collezioni, tra cui la collezione Stardons, che presenta un design ispirato alle stelle e alla galassia, e la collezione Tregers, che presenta quadranti che riproducono opere d'arte realizzate con materiali preziosi come l'oro e l'argento. Tutti gli orologi Louis Moanet sono realizzati con grande attenzione ai dettagli e alla qualità dei materiali, che li rendono veri e propri capolavori dell'orologeria di alta gamma. Gli orologi Louis Moanet sono apprezzati in tutto il mondo per l'alta qualità dei materiali, la precisione dei movimenti e il design unico e innovativo. Grazie alla loro esclusività, gli orologi Louis Moanet sono diventati un simbolo di status e di lusso, e sono apprezzati da collezionisti, appassionati di orologeria e da chiunque voglia possedere un orologio unico e di alta qualità. In conclusione, gli orologi Louis Moanet rappresentano l'eccellenza dell'orologeria svizzera, grazie alla qualità dei materiali, alla precisione dei movimenti e al design unico e innovativo. Il modello Memories, primo cronografo al mondo con un movimento cronografico visibile sul quadrante, è un vero capolavoro dell'orologeria di alta gamma, che combina l'innovazione tecnologica con l'estetica sofisticata.